Con questi prossimi ordini del giorno che chiederemo di mettere in votazione cercheremo di sfoltire il trattamento economico e di privilegi delle cariche istituzionali di questo ramo del Parlamento. Iniziamo ad abolire una serie di spese inutili che si sommano a quelle che già ha un normale deputato e sono già abbastanza. Noi crediamo, Presidente, che con 3.500 euro di diaria al mese non rendi contata, 3.690 euro di rimborso spese per l'esercizio del mandato, per il 50% non rendi contate, con un'indennità di funzione, quale membro dell'ufficio di presidenza al cui il Movimento 5 Stelle rinunce che voi prendete senza tassazione, senza essere tassati, con quei soldi forse, se avete una collazione di rappresentanza, vi potete pagare la colazione da soli. La scusa dello stipendio l'auto per garantire una continuità con il lavoro precedente quando si tornerà alla vita normale si interrompe nel momento in cui ci si accorge che qui dentro si tende a entrare e rimanere per 30 anni, motivo per il quale il Movimento 5 Stelle ha una regola che prevede il massimo due mandati. Perché? Perché l'obiettivo principale di un politico è quello di creare un mondo migliore per chi sta fuori da questo palazzo. E se tu in quel mondo ci tornerai hai anche questo obiettivo mentre sei qua dentro. Mi dispiace perché i cittadini italiani oggi capiscono una cosa in più, che se si fossero scaldati così quando parlavamo di mafia o di altri argomenti forse oggi non saremmo il paese che siamo. Voi dovete rispondere a quello che non fate ai cittadini italiani. Per quale motivo chiedo a lei Presidente e a tutti i deputati in quest'Aula, visto che abbiamo un fondo aperto presso il Ministero dello Sviluppo Economico al quale il Movimento 5 Stelle e tutti i suoi deputati hanno versato 17 milioni di euro. Se l'avessero fatto tutti ad oggi avremmo oltre 300 milioni di euro finanziati e versati in quel fondo. E questa è una cosa intollerabile che oggi in un periodo di crisi succeda questo. Mi chiedo cosa osta, cosa impedisce a tutti questi deputati che ci stanno urlando contro le peggio cose a votare a favore e a rinunciare ai loro insulsi, privilegi. Ed è per questo che la gente non vi vota più e che ve ne andrete a casa molto presto. In prima commissione si sta proprio affrontando una serie di proposte di legge sulle indennità dei parlamentari. L'unica proposta di legge del Partito Democratico è una proposta di legge, a prima firma Lenzi e oggi la sottosegretaria Amici, che dice esattamente, ma esattamente, quello che noi stiamo mettendo in votazione con questo ordine del giorno. Ma se per lei, capogruppo, è un atto di fede quello di tutelare i soldi per la politica, allora chiede alla capogruppo in Commissione Affari Sociali Lenzi di ritirare quella PDL perché non rappresenta il suo partito. Non vi lamentate più se vi tirano anche delle tame e noi condanniamo, per l'amor di Dio, se non vi fanno entrare in una piazza senza scorta. Non vi lamentate. Noi camminiamo a testa alta e portiamo avanti questa battaglia. Vi chiediamo di far parte di questo progetto, di destinare questi soldi alle piccole e medie imprese, perché aumenta la qualità della vita se fai il tuo dovere. Se lo volete fare bene, altrimenti vi assumete la vostra responsabilità, ma sappiate che quando ci saremo noi, in quei banchi, come forza di governo, la prima cosa che faremo in un giorno solo sarà questo taglio. E vedervi in minoranza quel giorno sarà un piacere. Grazie. Grazie. Grazie.